Buonasera, come state? Questo weekend si svolgerà la prima edizione della World Cup WKMO, quindi ho pensato di approfittare dell'occasione per raccontarvi un po' la differenza tra World Cup, World Championship e di che cos'è la WKMO. Ecco, potrebbe essere che questo video che nasce per IGTV, per questi video pensieri che faccio qui, potrebbe essere che lo pubblico anche su YouTube, così vediamo un po' come mi gira. Anche perché sono in attesa del nuovo treppiede per fare di nuovo video filmati, insomma montati bene, con uno script eccetera, che al momento non posso più fare perché il treppiede vecchio ha fatto un bel volo e si è rotto. Ecco perché gli ultimi video che ho pubblicato in realtà sono diversi da quelli soliti. Ma tornando a noi, allora per World Cup si intende la Coppa del Mondo che assolutamente è indetta da una organizzazione che opera a livello mondiale, però è una competizione aperta a tutti i club che aderiscono. Questo significa che non c'è una squadra nazionale che viene selezionata e che partecipa per rappresentare l'Italia. Ma qualunque associazione sportiva, qualunque club che pratica karate e che aderisce a questa organizzazione, alla WKMO in questo caso, può tranquillamente partecipare. Quindi ci possono essere più associazioni sportive italiane, più associazioni sportive di altri paesi che decidono semplicemente di partecipare. Mentre un World Championship, ovvero un campionato del mondo e non Coppa del Mondo, è proprio un torneo mondiale dove le varie nazioni mandano degli atleti agonisti scelti. Quindi l'atleta di fatto rappresenta la nazione e quelli che, insomma, gli atleti che vengono chiamati, nel nostro caso in Italia, i famosi azzurri. Bene, a questa prima edizione della World Cup WKMO, la AS di Kokorozashi, i miei allievi, parteciperanno ovviamente in prima linea. Dovevano essere sei allievi, però purtroppo uno di loro ha avuto un imprevisto di salute e quindi alla fine ne porterò cinque. Tre adulti e due ragazzi, che spero faranno bene e, insomma, permetteranno alla scuola di portare a casa qualche risultato. E, insomma, comunque non è importante. L'importante è andare lì e fare questa esperienza a livello internazionale, salire sul tatami. Ogni volta che si combatte, che si combatta a contatto, è sempre un'esperienza, ha sempre qualcosa da insegnare, sia per spronarsi a migliorare, sia per confrontarsi con gli altri, quindi è sempre un'ottima occasione. Detto questo, due parole sulla WKMO. La WKMO è la nuova sigla che è stata data a quella che era la VUKO, che magari è già più famosa come sigla, cioè la World United Karate Organization. Adesso è diventata WKMO, ovvero World Karate and Martial Arts Organization. La sigla è cambiata, con il subentro dell'uomo presidente, il maestro Paolo Bolafio, che adesso appunto presiede la WKMO, e nonostante l'altro anno si sia fatto sempre la Coppa del Mondo WUKO, si è deciso di indire subito un'altra Coppa del Mondo, per partire bene, insomma, con questo nuovo direttivo e con questo nuovo formato della WUKO, che ora è WKMO. E che dire? Ah sì, che nella WKMO il Makoto Kai, che è lo stile a contatto, a pieno contatto, che insegno e che pratico da ormai diversi anni, è di fatto il regolamento standard per la WKMO. Quindi, non sarà, solitamente per questi eventi è il regolamento Kyokushin, che viene utilizzato, come il mondiale a cui ho partecipato, questa volta, cioè in quell'occasione, quella volta in qualità di azzurro, quindi era un World Championship, questa volta è una World Cup. In questa World Cup, per la WKMO, dicevo appunto, il regolamento standard sarà il regolamento Makoto Kai. Quindi, con la divisione di peso e di categoria che prevede il regolamento Makoto Kai, e con la possibilità anche di entrare in brevi fasi di lotta in piedi, cosa che nel Kyokushin, per esempio, non è possibile. Detto questo, io vi auguro una buona serata e al prossimo videopensiero. Per chi dovesse vedere questo video su YouTube, cercatemi anche su Instagram, dove posto ogni giorno una o due foto a tema arti marziali, o comunque delle attività che vengono svolte nella Kokoro Zashi ASD, e dopo, un po' così come mi gira, pubblico questo tipo di video. Non montato, non programmato, non studiato, ma così, ecco, in presa diretta e senza essere troppo elaborato, ecco, molto diretto. Grazie.